Al via le prime richieste di risarcimento dei danni causati dai continui o brevi blackout, disagi che per giorni hanno interessato sia Fano che le città limitrofe fino a Mondolfo e Senigallia. Le frequenti interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica hanno causato infatti rotture, danneggiamenti agli elettrodomestici come lavatrici, lavastuviglie e computer. Dopo il disservizio per le utenze andato avanti in molte zone fino a ieri sera, è possibile ora preparare la documentazione necessaria al rimborso. L'Associazione dei consumatori della provincia di Pesaro e Urbino ha comunicato che è fondamentale avere una perizia tecnica firmata, quindi in caso di controlli o riparazioni fatte ad esempio da un elettricista, è importante farsela rilasciare. In questo modo sarà possibile attestare il nesso tra il guasto e uno sbalzo di corrente. L'Enel poi ha riferito che è possibile richiedere il risarcimento inserendo nella documentazione i dati della fornitura, il numero cliente, i dati personali, l'indirizzo, un recapito telefonico, la descrizione del danno subito e se si è già in possesso, la fattura di riparazione allegata. Il tutto potrà essere spedito tramite fax al numero 800 04 66 74 oppure tramite raccomandata intestata ad Enel distribuzione con casella postale 55 55 85 100 P. Il modo più semplice invece sarà recarsi direttamente negli uffici Enel commerciali. A Fanno ci sono due punti, in via Roma 100 e in via Primo Maggio numero 1, lo stesso a Pesaro in via Sirolo 20 e in via Iuri Gagarin. A Saltara poi è situato in via Flaminia 67 B, mentre a Urbino in piazza della Repubblica 12. Ricordiamo infine che l'Enel può essere contattata al numero 803 500 oppure è possibile visitare il sito internet www.enelservizioelettrico.it